Buongiorno Lei giudice di gara? Sì Cosa ci dice qualcosa di questa gara, quella di oggi, quella di domani? Quella di oggi è la prima gara che fanno qui a Chioggia Come tipo di gara, come Abaddon Quella di domani invece la gara da 11 anni che la fanno è ben organizzata Ci sono tanti partecipanti? Domani ci sono 380 Oggi invece ci sono 80 bambini e poi la gara degli adulti saranno una sessantina Benissimo, grazie Non voglio vedere quegli zaini dentro le sedie, sotto le sedie Via tutti gli zaini per favore Una volta posizionato l'occhialetto, la cuffia, le scarpe Sicuramente la prima frazione è la corsa 2.2.2.2.3 Vediamo anche uno dei nostri atleti, Dostolo Daniele, che non è mai vestito come gli hai C'è stata una piccola variante, scusate state attenti Solo i cuccioli possono mettersi la cuffia e gli occhialini per correre Quindi i cuccioli e anche il peccorale Cuccioli, cuccia, peccorale e i figli possono tenerlo per tutta la frazione Ok? Quindi se volete mettervelo, ve lo mettete Grazie Allora Ci siamo quasi, sono tutti fai dall'acqua, coraggio Veronica è l'unica ragazza del nostro formone, bravissima, bravissima, bravissima i nostri ragazzi, è la rossa, è la storia, è sprint la rossa, quanto miseria, mettoni qua, ci sono tutti, era l'ultimo, perfetto, via che vivono, mettoni qua. Dai Maria, dai Davide, dai Maricione, dai Beatrice, dai Alma, dai, dai, dai. Grazie a tutti! Eccolo qua! Seconda numero 8! Eccolo qua! Seconda numero 7! Eccolo qua! Seconda numero 7!